L'evoluzione del concetto di democrazia, la rappresentanza, la partecipazione dei cittadini, il controllo sulle istituzioni, la trasparenza della pubblica amministrazione. Fatta a Padavellino il workshop itinerante organizzato dall'Associazione Arcadia, relatori Salvatore Pignataro, giornalista e scrittore Enrico Farina, consigliere della Corte d'Appello di Salerno, Giovanni Orefice, giornalista pubblicista. Diversi temi affrontati, resi ancora più attuali dall'imminente campagna elettorale. Salvatore Pignataro, autore del volume La parabola della democrazia, invita i cittadini a farsi trovare preparati. Sicuramente è importante far capire ai cittadini il concetto dell'evoluzione soprattutto della democrazia rappresentativa, non solo alla luce della legge elettorale e poi sicuramente i cittadini, se come si è detto si voterà a marzo, devono essere preparati anche a sapere e a capire il sistema che ci è stato dato dai nostri legislatori. Il cittadino deve essere consapevole degli strumenti che ha e soprattutto è importante discutere non solo sulla questione della legge elettorale ma anche sul ruolo dei partiti che hanno perso la loro precedente importanza, non c'è più l'ideologia, si è sempre più il liderismo esasperato e quindi è importante anche porre un'attenzione su quelli che possono essere gli strumenti di partecipazione democratica.